Ben trovati, buona giornata anche a tutti voi, ma in particolare buona giornata al volo, è arrivato proprio qualche istante fa, Don Nazareno, pace e bene, ben trovato? Grazie, ben trovato a te Francesco e anche ben trovati tutti gli amici che sono sicuramente in ascolto già dal primo mattino su queste frequenze, perché per me questo è un orario insolito. Insolito, insolito, anche perché cominciamo un po' a spiegare ai nostri amici come in questa nostra puntata introduttiva, come si organizzerà un po' Vangelo Giovane, uno spazio che avremo modo anche di realizzare in un altro studio, avremo modo di avere a disposizione, anche se oggi possiamo aprire il centralino, possiamo dire subito, saremo sempre in diretta, ecco qui la pagina di Vangelo Giovane che cresce come numero, sai che insomma Facebook ormai ha toccato soglia un miliardo, sì sì, ha toccato soglia un miliardo e attraverso Facebook, i social network in particolare, Twitter, andiamo un po' a stuzzicare, a provocare un po' anche i nostri amici telespettatori, anche se qualcuno ha già postato un messaggio, proprio perché sul nostro piccolo promo che abbiamo inserito su Facebook chiedevamo delle domande, domande scottanti risposte chiare, già qualcuno subito ha fatto una domanda. Vabbè questa cosa è intrigante, domande scottante, speriamo di averne alcune a cui possiamo dare un minimo di risposta, quando non potremo dare risposta, vabbè ci informeremo insomma. Ebbene Don Nazareno, ricominciamo anche quest'anno con Vangelo Giovane, avremo delle novità all'interno del nostro programma, anche perché i nostri amici potranno chiacchierare con noi attraverso Skype, se vogliono possono cercare con Skype il nick Vangelo Giovane, poter fare anche una chiamata, una videochiamata, interagite con noi, ci saranno gli sms, avremo modo anche attraverso le vostre telefonate in diretta. Ecco, dal pomeriggio, lo scorso anno, qualche mese fa, passiamo al mattino. Per andare un po' a toccare delle tematiche che ci aiuteranno un po' a riflettere insieme, come ad esempio quella che abbiamo vissuto ieri, Don Nazareno, la grande festa, domenica sicuramente, festa importante, ma inserita con questa grande devozione che possiamo anche sottolineare quanto era importante per lo stesso San Pio da Pietrelcina, verso la Madonna, la Vergine di Pompei, la Vergine del Rosario, questa grande arma che noi spesso abbiamo a disposizione, ma a cui non facciamo molto riferimento. Beh, diciamo che sì, forse è vero, noi non facciamo molto riferimento, siamo diventati molto più diretti verso Gesù, lo Spirito Santo, Dio Padre e dimentichiamo la mediazione della Madonna che quindi ci viene sempre ricordata, anche il Papa stesso raccomanda sempre la recita del Santo Rosario, quindi la Madonna di Pompei, la Vergine del Rosario. Ieri, vabbè, è capitato proprio ieri, 7 ottobre, quindi anche di domenica, per cui comunque all'interno delle celebrazioni si è inserita anche questa supplica, che è una bella preghiera alla Madonna della Vittoria. Io adesso però non ricordo bene la storia, ma ho letto qualcosa, quindi è in riferimento proprio a questa, è che è una devozione che fa comprendere davvero come la vittoria è di Dio, in fondo, anche sul secolarismo, sull'anticlericalismo, per esempio leggevo da qualche parte che gli anticlericali del 1800 di Napoli si prendevano burle di questa devozione, anche perché probabilmente, apparentemente, una devozione, immaginate insomma, siamo a post risorgimento, quindi potevano sembrare ridicole, eppure pensate un po' che un giornale anticlericale che si chiamava La Lumière scrive a un certo punto che dalle 7 alle 8 di una certa giornata sarebbero avvenuti miracoli nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, dove appunto si ricorda la Madonna dei Pompei a Napoli, ma era una burla. Ebbene, un giornalista di questo giornale anticlericale volle proprio andare per prendere in giro, ovviamente, per screditare la fede, era quello che dalla massoneria in poi si cercava di fare, purtroppo qualche volta anche oggi, noi non sempre ne siamo consapevoli, ma vi do la parentesi su questo, ne parleremo un'altra volta magari del rapporto della fede con la massoneria. E praticamente andò questo giornalista lì a Napoli e voleva prendersi il burla e in quel momento il sacerdote stava predicando, dalle 7 alle 8 appunto, come loro erano scritte sul giornale, stava predicando circa la riconciliazione eccetera. Quando appunto questa persona si sente toccata e chiede al sacerdote di confessarsi, quindi questo giornalista che l'ha dato per screditare si è trovato pentito e riconcilato, torna dal direttore e dice è vero, lì si avvengono veramente miracoli, ma cosa dici, cosa non dici? E anche il direttore va lì e praticamente accade la stessa cosa e dopodiché il direttore lascia la direzione di questo giornale anticlericale per dirigere poi un giornale diocesano e scriveranno su questo giornale davvero la regina delle vittorie fa in gracoli, quindi la Madonna del Rosario. Questo per dire con un aneddoto legato alla fine dell'Ottocento, ma per capirci bene, ecco la Madonna davvero realizza quello che noi chiediamo perché ha questa missione possiamo dire data l'edà Dio. E quindi più preghiamo Maria più preghiamo Gesù. E tu sai anche che la particolarità di Vangelo Giovane va anche a catturare un po' dal web anche alcuni video, alcuni che realizzano giovani, ragazzi, ma allo stesso tempo Vangelo vuole dare anche una proposta anche sulla meditazione su questa giornata, quindi avremo modo anche di concludere la nostra puntata, il nostro appuntamento anche con una pagina del Vangelo da leggere insieme, ma allo stesso tempo come vi anticipavo sono anche non solo i giovani perché poi sono tanti, tra virgolette, artisti del web che si divertono a colorare alcune canzoni, alcune immagini, anche film attraverso dei piccoli filmati che realizzano su internet, su YouTube in particolare. E noi volevamo, anche ricordando il grande momento che abbiamo vissuto ieri, attraverso un video con una bellissima canzone dedicata a Maria e che ci darà l'opportunità di riflettere su questa splendida icona. Vediamolo insieme. Grazie a tutti. 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 Saluto a tutti. Grazie 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 a tutti. puntata introduttiva numero zero, quali domande se vuoi puoi fare soprattutto per tematiche da affrontare nel corso di questo anno? In questa nostra puntata introduttiva abbiamo chiesto anche ai nostri amici che ci seguono su Facebook, sui social network, anche attraverso i nostri amici che seguono Twitter, Padre Pio TV, di interagire con noi e fare delle domande, qual è la tua domanda quest'oggi? Sì, ne avevo due domande, una era sulla fede, appunto perché siamo all'anno della fede, come bisogna alimentare la fede soprattutto nel quotidiano ogni giorno, perché è lì proprio dove la fede si nota, perché non deve essere una fede solo di riti, della partecipazione alla messa, ai sacramenti, ma credo debba essere una fede di ogni giorno, quindi come deve essere alimentata? E una seconda domanda che è legata alla prima comunque, la preghiera, c'è un basso del Vangelo dove Gesù dice, ora non mi ricordo esattamente, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Ora ecco, la nostra preghiera, quando noi ci mettiamo in preghiera, soprattutto purtroppo ci affidiamo nelle difficoltà, la preghiera ecco, da questo passo evangelico noi possiamo partire che già Gesù ci risponda a quella richiesta che noi vogliamo e quindi la nostra preghiera insistente significa che quella grazia la otterremo oppure è una presunzione? Ecco, perché la nostra preghiera comunque deve essere un affidamento. Io ho capito, quindi la prima domanda è come deve essere questa fede vissuta, la seconda sulla richiesta, la richiesta della preghiera. Va bene Enzo, dai proviamoci, se qualcuno ha un suggerimento può chiamare. Grazie ad Enzo. Ciao Enzo, ci vediamo sicuramente quando verrà la prossima volta. Eh sì, spero più presto. Ok, ciao. E va bene, penso che siano due domande, non sono molto scottanti, non bruciano molto, sono domande abbastanza, diciamo, consuete, ma il che non vuol dire che siano da trascurare, perché, che tipo di fede? Beh, innanzitutto ci interroghiamo su che cosa vuol dire fede. Fede, sì. Cosa vuol dire fede? Vediamo un po'. Allora, fede nel senso quindi di affidamento, nel senso di buttarsi nelle mani di una persona. Io penso che un bambino, per esempio, Francesco che ha solo tre figli, quando Francesco, che tu sei padre e tu volevi insegnare ai tuoi figli a camminare, questi iniziavano a camminare e si affidavano totalmente alla sicurezza che tu le avresti presi alla fine di questa piccola corsetta, o no? Penso che c'è così. Tutte e tre insieme, sì. Tutte e tre insieme, perché poi lì, tre, insomma, nati tutte e tre insieme. Allora, per dire, quindi la fede come fiducia, come abbandono, come un credere davvero potentemente, io penso, sia questa, questa è la fede. Però di fatto, ecco, se andiamo un pochino anche alla scrittura, per esempio, San Giacomo dice, fammi vedere le tre opere e ti dirò quale è la tua fede. Quindi una fede improduttiva non è fede. Una fede che resta solo nei pensieri, che resta solo nella mente, che non scende al cuore e alle azioni, possiamo dire che è una fede scarsa, improduttiva. Come diceva Don Tonino Bello, il venerabile ormai, diceva una fede sterile, quindi una sterilità che non produce, lui la direttora parlava di eucarestie sterile, quindi si era spinto molto avanti, alla falsa abitudine di fare comunione con il Signore senza produrre frutti. Per cui la fede è questo, quindi una fidarsi totale. Poi è vero, si vede in determinate cose. Io penso ad Ebrei 12, lettera agli ebrei, che non è di San Paolo, Ebrei 12 in cui c'è scritto tutto quello che riguarda la fede. Abramo per fede lasciò la sua terra e si fidò di Dio. Giacobbe, Giosuè e poi per andare oltre fino appunto anche a Maria che per fede disse sì all'angelo. Ecco cos'è la fede, affidarsi totalmente. Questo affidarsi però poi si vede nelle cose che fai. E quindi è chiaro che per alimentare la fede c'è bisogno di un contatto con Dio, perché avere fede significa necessariamente pregare, significa necessariamente essere persone di carità, significa necessariamente avere il volto di Cristo stampato su se stessi. E questa è la fede. E' ovvio che il Signore per quanto possa essere duro e vero, poi però ecco ci insegna che la fede non è una cosa grandissima, basta un grande numero di senape che diventa poi l'albero più grande. Quindi ecco fidiamoci anche che non è una questione di grandezza della fede, è una questione di fede certa. La fede certa. Come dice San Francesco? Dammi fede certa in una sua preghiera. Non dico dammi una fede gigante. Qualche volta tu ti incontri, io ho una fede, una fede gigante alla mia famiglia, poi dicono c'è una fede, mia zia suora, un parente sacerdote, non è quella la fede, la fede è quello che vivi davvero tu. Ebbene siamo in onda come ci annuncia questa intersigla nel nostro gergo tecnico con Don Nazareno, Vangelo Giovane, questa puntata introduttiva. Da quest'oggi ci accompagneranno anche dei promo che racconteranno ai nostri amici per tutta la settimana quale sarà la tematica che affronteremo per lunedì prossimo. Quindi avremo modo anche di riflettere insieme, ricordo ancora sms, skype, telefonate in diretta, avremo modo di… Teletrasporto. Magari, magari. Intanto ci attrezziamo. Magari ci trasportiamo noi qualche volta fuori. Ci sono degli argomenti, c'è anche Marisa da Trento… Mariana, Mariana da Treviso. Mariana, 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 io purtroppo lo devo dire… Hai scarrato tutto, Mariana da Treviso. Mariana da Treviso, Trento, Treviso, sono vicine. Mia figlia stamattina si è seduta sui miei occhiali, quindi non posso… ecco, sfatiamo anche… Bene, allora, sfatiamo un mito… Allora, pronto, in diretta. Buongiorno, Mariana. Buongiorno, spero che mi sentite bene. Sì, bene. Allora, bentrovati. Grazie, ciao. Una domanda. Ti prego di far luce nel mio cuore, specialmente Don Nazareno che è invitato oggi in vostro studio, perché diciamo che è un po' responsabile della confusione che è nel mio animo e nella mia mente. Sì. Bene. Ok. Io sono ortodossa. Yes. Frequento adesso la Chiesa Cattolica. Bene. Perché è una questione di distanza, non posso arrivare alla Chiesa ortodossa, quindi frequento la Chiesa Cattolica. E mi trovo molto bene. Però ho avuto motivi, diciamo, di… non di dubbio. Così, tante volte mi sono confusa per certe cose che li vedo nella Chiesa, sia Cattolica, sia ortodossa. Allora, nella mia Chiesa ortodossa, io vedo che si sposano dieci volte nella stessa Chiesa e non capisco più niente. Ah, sì, è vero. Allora, oggi mi sposo, domani divorzio e dopo domani vengo con un'altra vestita in un bianco immaculato. Sì, sì. Sì, sì. Non capisco niente. Bene, vengo qua e un giorno, anno scorso, accendo televisione e vedo proprio lei. E io che mi scotava sto argomento, ero felicissima perché lei trattava proprio questo argomento. E lei dice, volete la comunione? Siete separati. Fate causa al Vangelo, non a noi. Non possiamo darvi la comunione. Siete separati e il Vangelo parla chiaro. E io dico, guarda un bravo prete, basta, questa sarà la mia linea straordinaria. Perché Gesù parla… io vedo che non cambia le parole, le frasi. Questo Vangelo è lo stesso sia per me come ortodossa, sia per te come cattolico. E come mai le parole vengono però… ci facciamo un Dio sulla nostra misura, sul nostro consumo, sul nostro piacimento così? E basta, mi sposo domani divorzio di te, prendo un'altra. E dico, no, basta, io adesso ho capito sto domani bene. Però due settimane fa incontro una mia amica nella mia chiesa dove è frequento, qua a Covolo di Pederoba. E questa mia amica, divorziata da… separata da tanti anni, io vedevo che non prendeva la comunione e io dicevo giusto perché quel parroco l'ha detto bene, col prete la… fate causa al Vangelo, siete così, va bene, perfetto. Ma la vedo due settimane fa che prende la comunione. Allora io felice ho detto ha fatto pace con il marito e io vado a lei e le ho detto sei tornata insieme con il tuo marito, le dico io. E lei dice, ah no, no, siamo ancora separati. Allora dico, almeno non capisco più niente. Eh, va bene, no, 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 sono andata avanti a chiedere, va bene, ma tu cosa stai facendo là a prendere comunione. Io sono stata a Gita però ho detto, guarda, una paletta diversa con tante situazioni e proprio tutti pretendono di essere la vera chiesa. Allora, quale è la chiesa? Cosa io sto frequentando? Cosa succede? Non capisco più niente. Grazie, buona giornata e allora spero che lei farà un po' di luce. Sì, ma si è capito bene. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Anche simpatica. Sì, molto simpatica. Simpatica ma bisogna essere un po' più elastici. No, ma no, no, attenzione, cioè nel senso che comunque hai detto bene Marianna, bisogna essere chiari. Forse bisogna essere elastici nel comprendere le cose. Allora le cose non sono mai tutte nere e tutte bianche, hanno comunque una sfumatura. Per cui ecco esistono anche delle persone che sono separate, che non hanno convivenza con altri uomini o donne, quindi che sono separate e rimangono sole. Ecco, queste persone possono accedere alla comunione. Soprattutto se decidono davvero di vivere da soli in quel momento, possono davvero accedere alla comunione. Quindi adesso non so il caso di questa amica. Perché se questa amica ha detto io per adesso sono separata, ecco la dottrina della Chiesa, che è una dottrina desunta dal Vangelo, le ha detto chiaramente che può accedere alla comunione, perché appunto è separata, non ha una convivenza, ecco non ha rapporti con un altro uomo, quindi non c'è diciamo una rovina, tra virgolette, se posso usare questo termine, del matrimonio. Diversamente ecco questo fatto del divorzio. Nella Chiesa ortodossa è un po' diversa la dottrina, perché esiste un'accelerazione della dottrina sulla nullità del matrimonio, cioè nel senso che quelli che tu hai visto sposarsi più volte, il matrimonio precedente nel senso del divorzio è dichiarato nullo, quindi è come se fosse cancellato. Nullo perché? Per qualche problema di forma, per qualche problema di... però ecco non conosco molto bene la questione. Una sola cosa so che probabilmente la dottrina matrimoniale è più seria, più chiara e più evidente nella Chiesa cattolica. Qui io non voglio adesso fare il promo per la Chiesa cattolica, ma posso solo ricordare che la Chiesa ortodossa nasce da una costola della Chiesa cattolica e non nasce certamente il giorno dopo la morte di Cristo, o dopo la sua resurrezione, ma nasce dopo mille anni e quindi possiamo pensare bene che ecco anche la Chiesa ortodossa, per quanto possa essere santa, però ha bisogno anche di purificazione. Quindi in questo senso l'elasticità, bisogna comprendere che lo Spirito Santo guida e guiderà poi tutte le Chiese all'unità, che è, possiamo dire, l'unica preghiera importante, anche le altre sono importanti, ma l'unica preghiera forte che Gesù fa al termine della sua vita, che tutti siano una cosa sola. Invece poi nel mille è avvenuta la divisione con la Chiesa ortodossa, intorno al XVI secolo è avvenuta quella protestante e capite bene che queste divisioni sono avvenute ben mille anni dopo che la Chiesa cattolica ha difeso strenuamente l'unità attorno a Pietro, attorno a colui che è stato chiamato la roccia, che è Cristo ma è anche Pietro, non è solo la roccia che Gesù, perché altrimenti ognuno si fa la Chiesa a casa, così come dicono alcuni protestanti anche della mia provincia, che ho sentito su una radio, che non è così, la roccia è pietra e attorno a questo pietro convergeranno tutti. Questa è una profezia che c'è nel Vangelo, quindi ecco anche lì fate causa al Vangelo. Torniamo però all'amico della preghiera, però c'è però anche altra cosa. Grazie a Pia al volo mi ha portato un email e siamo lì quasi, anche se ci spostiamo nella Chiesa cattolica, c'è Stefano. C'è salvezza anche nella Chiesa ortodossa, ma bisogna tornare all'unità. Stefano dice ho 40 anni, due splendidi figli che sono tutta la mia vita, sono credente e praticante, non sempre, ma ahimè divorziato. So che la Chiesa tutto questo non l'accetta e per questo mi sento in colpa. Mi piacerebbe confessarmi, ricevere il sacramento della comunione, dice il sacramento della comunione, ma sicuramente per riferimento alla comunione, mio figlio più piccolo riceverà la prima comunione tra qualche mese, ma ho saputo che io non posso più farlo. Chiedo a voi se è vero che non posso più fare tutto questo, io comunque continuo a pregare, spero che Padre Pio possa aiutarmi, ritrovare la pace, la serenità, mi dia la forza di andare avanti. Spero anche che il Signore possa perdonarmi per essere andato contro le leggi della Chiesa, un cordiale saluto e un ringraziamento. Posso avere questo foglio Francesco? Certo. Perché c'era una frase che mi ha colpito che è questa qui, innanzitutto qui non si capisce se è divorziato o è risposato, Eva non si comprende. Sì, è divorziato, dice solo ahimè divorziato. E poi c'è questo, la Chiesa tutto questo non lo accetta, non è questo il problema, non è che la Chiesa non l'accetta, chi non l'ha accettato, anche se magari involontariamente, per ignoranza, purtroppo carissimo Stefano sei stato tu. Nel senso che la Chiesa è il cammino dei credenti verso il Regno di Dio. E il cammino dei credenti verso il Regno di Dio è fatto appunto con delle basi grandi che sono appunto tutta la parola di Dio, è tutto il magisterio della Chiesa, quindi tutto ciò che lo Spirito Santo ha ispirato. Quindi noi possiamo essere Chiesa o possiamo dire questo non lo voglio, cioè diventiamo noi, noi affettiamo la Chiesa. Una persona che divorzia dà un taglio alla Chiesa. Ora questo non significa essere nel peccato mortale, ma significa accogliere questa dimensione, accogliere cioè che nel divorzio, quando c'è però attenzione un secondo matrimonio, c'è un valore che è stato tagliato. E un valore tagliato purtroppo non possiamo ricucirlo con l'opinione, siccome tutti divorziano allora adeguiamoci. Ecco no, questo la Chiesa non lo può fare, perché se c'è un momento di follia, ci sono stati secoli folli anche nella Chiesa, pensate solo all'oscurantismo dovuto per esempio all'inquisizione. Secoli folli in cui si è creduto che questo fosse normale. Ci sono situazioni in cui non si può però dire, siccome tutti sono d'accordo con il divorzio, allora adesso iniziamo ad accettarlo. Non è così, il valore rimane tale, i valori non si fanno sulla base dell'opinione. Quindi va accolta anche questa dimensione, ecco da credenti, chiedere la luce allo Spirito Santo perché si possa accogliere questa dimensione in cui ci si sente un po' affettati, un po' feriti per non poter accostarsi alla comunione a cui bisogna tenerci. Cioè stranamente per un divorziato risposato essere credente, praticante significa astenersi dalla comunione e tenerci a questa astensione. Lì si diventa credente perché comunque c'è un riferimento all'ultimo, si crede comunque che poi Dio farà. Quindi se io da divorziato risposato mi astengo alla comunione, non vado a ferire la Chiesa, non vado a infierire sulla Chiesa dicendo di cotte e di cuda perché non accetta il divorzio, ecco lì dimostro la mia fede. Quindi che Padre Pio ti aiuti a accogliere in questa dimensione una via di santificazione, anche perché poi il giudizio ultimo spetta a Dio. Quindi è su questa terra che finché uno è divorziato e risposato non potrà accostarsi alla comunione, il che non vuol dire che non è in grazia di Dio ma deve anzi dimostrare quella grazia di Dio proprio nell'accoglimento di questo. Significa io credo nella Chiesa, è vero, le ho dato una ferita ma alla stessa maniera comunque rimango nelle sue braccia. Questa è la santità anche per i divorziati e risposati. Donna Zaneto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sono Giovanna e volevo fare una domanda sugli angeli, anche se so che non è proprio l'argomento del giorno. Sì, oggi è una puntata introduttiva. Volevo chiedere, io credo fermamente agli angeli custodi e insegno, ciò cercando di insegnare di figli e crederci. Però c'è un mio cruccio, una mia domanda, un mio dubbio enorme. Dov'è l'angelo custode quando i bambini vengono torturati, vengono usati per il trapianto di organi, per il traffico di organi, vengono maltrattati? Perché l'angelo custode non interviene? L'angelo custode, Giovanna, non interviene perché l'angelo custode è un angelo. Perché l'angelo custode è spirito, mentre il maltrattamento, eccetera, eccetera, è qualcosa che può avvenire solo nella storia, nella terra. Noi dobbiamo avere fede negli angeli custodi. Tutti i santi li hanno sempre percepiti, visti. Addirittura c'è una mistica che ha detto che io sacerdote ne ho due. No, no, ma non voglio dire, ha detto, ci crediamo, non è quello il problema. E dobbiamo però pensare a questa dimensione spirituale. Noi non siamo solo spirito, siamo anche carni. E come carni siamo spiriti incarnati, quindi nella storia. Perché tutto quello che succede fisicamente, eccetera, non dobbiamo temere. Gli angeli soffrono insieme a noi perché sono puro spirito, possono solo intervenire sull'anima, sullo spirito e lo faranno. Quindi quegli angeli custodi sono lì non a custodire fisicamente, ma a custodire soprattutto l'anima che va dritta in paradiso. Pensate solo al martirio di tanti bambini che vedono il volto di Dio. D'altronde Gesù ha detto, i loro angeli vedono costantemente il volto di Dio. È una dimensione spirituale da comprendere un po' meglio. Non pensiamo quindi che l'angelo sia come una persona che possa fare qualcosa. Anzi, chi può fare qualcosa siamo noi. Ecco perché noi diventiamo, tra virgolette, degli angeli quando riusciamo a impedire qualcosa, quando aiutiamo una persona sofferente, si dice appunto che sono degli angeli. Però attenzione, la figura angelica comunque è una realtà vera, reale. Una realtà reale non vuol dire che la devi vedere e toccare, ma esiste. Quindi quegli angeli sono costantemente aggrappati all'anima delle persone per custodirla, per preservarla, eccetera. Ecco, insomma, non ho altre parole. Sì, anche perché Don Nazareno siamo verso la conclusione e vedi tanti sono gli argomenti che possiamo... La preghiera, dobbiamo rispondere. Comunque chiedete vi sarà dato, il Signore qualche volta esaudisce subito, qualche volta no. Ad Enzo. Dipende dalla volontà di Dio, quindi però bisogna pregare costantemente. La Madonna, sempre nelle varie apparizioni che avvengono dai primi tempi del Mille fino ai nostri giorni, ci chiede di pregare costantemente. Quindi significa che la preghiera è ascoltata, anche quando non è immediatamente esaudita. Quindi facciamo una distinzione tra Dio che ascolta la preghiera e Dio che esaudisce la preghiera. A noi interessa che Dio ascolti la nostra preghiera. Infatti diciamo, ascolta, diciamo, realizza, Signore, quello che diciamo. Lo realizzerà Lui quando vorrà, quando sarà. Però chiedete, vi sarà dato, bussate e vi sarà dato. Siamo tornati un po' anche a come abbiamo cominciato, con il Rosario, con la preghiera del Rosario, vedi? Preghiera Mariana. Ebbene, Don Nazareno, tanti gli argomenti, c'è, oltre a queste email, ce ne sono altre, dei post su Facebook, si chiedeva di parlare tra le domande scottanti, i rapporti prematrimoniali, i fidanzati, eucarestia molto sui divorziati, sulla famiglia, matrimoni in crisi, viste anche le ultime statistiche. Ecco, tanti sono gli argomenti che vogliamo affrontare quest'anno con Vangelo Giovane, grazie alle vostre domande. Io dico fidanzamenti in crisi, giovani e adolescenti in crisi, perché è lì la genesi dei matrimoni in crisi, poi magari ne parleremo. E questa è già un'altra bella provocazione. Verso i 14-15 anni, lì si sfasciano i matrimoni, quando ancora non sono creati, comunque ne parleremo. Bene, allora, appuntamento a lunedì prossimo, come sempre con Vangelo Giovane, abbiamo solo cambiato un po' l'orario, ma ci ritroveremo in diretta, attraverso SMS, Facebook, Twitter, anche su Skype e non solo. Potete chiamarci in diretta, la nostra Grazia Pia risponderà alle vostre telefonate. Don Nazareno, la tua email? Nazareno galullo chiocciolagmail.com, un po' difficile da memorizzare, però se voi cliccate su Google Don Nazareno con una sola Z, mi raccomando, troverete facilmente email, Facebook e tutto il resto. Ci tieni a sottolineare sempre Don Nazareno con una sola Z, perché io non ti ho trovato, ma se tu scrivi Nazareno con due Z, avrebbe una mazzata, Nazareno, una sola Z come Nazareno, Don Nazareno, e troverete facilmente tutto su Google, va bene? Oppure Vangelo Giovane, che chiede i tuoi post, ogni tanto scrivi anche tu su Vangelo Giovane, ti dobbiamo richiamare un po'. Sì, ieri l'ho scritto, l'altro ieri. Ecco, vediamo la pagina di Vangelo Giovane su Facebook. Prossima settimana, cari amici, torneremo, ma vi ricordo ci saranno dei promo che vedrete, che vi anticiperà già il tema che tratteremo, quindi in modo tale voi potete già subito intervenire attraverso tutte le diverse modalità di contatto.